Dopo aver aperto i ristoranti in tutte le più importanti capitali del mondo e dopo esserci confrontati con diverse culture, diverse abitudini e aver portato in giro la nostra natura, la nostra natura di essere italiani e l'italianità ci siamo trovati ad avere l'opportunità di confrontarci direttamente in Italia, in una città come Milano. L'opportunità è stata grande, importante ed eccoci qua. Il concetto di Cantiere Perpetuo ci rappresenta perché siamo un po' la somma di tutto il nostro viaggiare, di tutto il nostro peregrinare tipico tra l'altro degli italiani e quindi abbiamo potuto assorbire diverse influenze e diverse abitudini reinterpretate alla nostra maniera. Il motivo stesso per cui io sono qua oggi è perché Riccardo è in giro, è sempre la ricerca di nuove idee, nuovi concetti. Il nostro menù è proprio questo, l'espressione di un concetto sicuramente molto più moderno, molto più attuale, molto più sexy, che un po' rompe gli schemi con quella che è la ristorazione tradizionale. E perché Porto a Milano? Beh, la risposta sta anche nella scelta del luogo, un luogo che ci ha lasciato sin dall'inizio senza fiato, sbalorditi. È un po' anche la sensazione che chiunque mette piede per la prima volta all'interno di questo spazio rimane un po' sbigottito. Grazie a tutti.